Sì Signori, signori è ritornata la dama bianca Bustarsizio sembra che adesso voglio fare un pochino più seriamente e speriamo che metta giù un po' di centimetri di neve sicuramente un metro di neve non la metterà però se va tutto bene a meno quei famosi dieci centimetri che mette ogni volta che viene alla neve o quasi intanto vediamo il centro di Bustarsizio che è una zona stupenda è forse una delle città più belle d'Italia almeno per così dire comunque è una città abbastanza caruccia tanto qua è tutto bagnato l'asfalto è più pioggia che acqua ma non so se si capisce dovrebbe essere zero gradi però la cosa più bella è macchia vero macchia? della neve eh? più bello macchia della neve mamma io sono bellissima e mi piace un casino la neve però ne voglio tanta così ancora poca eh lo so macchia bisogna avere un attimo di pazienza eh sai che qui li fa periodi voglio un metro di neve se no mi incazio con quelli del meteo e ne dico di tutti i colori gli faccio i piedi di cappelli viola azzurri bianchi verdi blu e rosa ma quelli del meteo che sbagliano sempre dai sta tranquillo macchia no ma sono incazzatissimo no ma guarda che c'è questa nevigata mi venite tranquillo eh dai almeno macchia faccio così eh non toccarmi basta 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 ma ma come mi incazzo quando mi toccano è come se mi mettessero una pancala sulla schiena e che mi schiaccia giù come un macigno mamma mia che rabbia è come se mi tessero a mangiare i fagioli a tavola che dopo continuano a fare le scoleggie che è schifo però se sono vie sono quelle profumate eh macchia macchia lo so che ti piacciono i biscottini per i cani oppure il che si chiama il pollo in umido come quello che facevo per i cani di mio cusino e sta qua non mi ha messo neanche la freccia qui sempre mi sembra che non mi ha messo neanche la freccia quello lì non ho visto e poi c'è un po' più mi attacca un po' di culade un po' spesso eh si si adesso allora utenti di youtube vi saluto tutti e buon inverno ciao